Ciao a tutti e bentornati. Oggi vorrei rispondere a dei quesiti pratici sull'esecuzione di un contratto Golker, che nel web spesso mi sottopongono. Prima domanda. Un contratto Golker può avere più intestatari? 2. È possibile intestare un piano di acquisto a un minorenne? Se sì, quali implicazioni? Possono indicare un beneficiario al piano di acquisto? 4. Posso fare dei versamenti aggiuntivi per i piani di acquisto che ho in corso oppure le rate sono fisse e devo aprire quindi nuovi contratti? 5. Posso modificare la mia rata mensile? Per quanto riguarda la prima domanda, il piano di acquisto Golker può avere un unico intestatario, che verrà riconosciuto attraverso un documento di identità e un questionario secondo la legge antireciclaggio 231 del 2017, dopo aver firmato informativa clienti al trattamento dei dati personali, secondo l'articolo 13 del GDPR. L'intestatario del piano di acquisto può, a sua scelta, inserire un beneficiario nel caso di morte. Inoltre, il piano di acquisto Golker può essere anche intestato a un minore. In tal caso, occorrerà avere un referente che agirà in nome e per conto del minore fino alla maggiore età. Le rate mensili dei piani di acquisto sono sempre integrabili, con dei versamenti aggiuntivi, senza alcuna formalità. Non è quindi necessario aprire un nuovo contratto, a meno che non abbiate intenzione di farlo. Nemmeno è necessario avvisare Golker. I vostri pagamenti sono sempre automaticamente abbinati al vostro piano di acquisto e comportano pertanto l'acquisto di metallo prezioso in vostro favore, in funzione della tariffa prevista dal contratto. Per facilitare le nostre operazioni, vi chiediamo di voler cortesemente indicare sulla causale del bonifico il vostro codice fiscale e il numero del conto deposito. Nel caso siate titolare di più piani di acquisto, indicateci a quale di esse intendete siano abbinato il pagamento aggiuntivo. Posso modificare la mia rata mensile? Assolutamente sì. L'aumento della rata mensile del vostro piano di acquisto comporterà naturalmente l'anticipato raggiungimento della somma d'arrivo e il più veloce recupero dell'acconto cauzionale versato al momento della sottoscrizione. Vi voglio ricordare che Golgari Italy si sta impegnando a sostenere il nuovo rinascimento economico e da subito vuole dare il suo contributo continuando a erogare il servizio di consulenza patrimoniale in beni di rifugio preziosi in modo gratuito e quotidiano direttamente al telefono o con la posta elettronica attraverso i nostri consulenti patrimoniali in oro fisico per chi abbia la necessità di approfondire, conoscere le potenzialità del loro fisico da investimento negli aspetti fiscali e normativi, nella diversificazione del proprio risparmio con la tutela dei propri soldi sia per i privati che per aziende e nella pianificazione della successione ereditaria. Per rispondere a tutto questo ci potete trovare con una linea diretta ed esclusiva tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17. Monica Guglielmi risponderà aspetti fiscali e normativi oro fisico e beni di rifugio monica.guglielmi chiocciolagolcare.it 335 17 30 236. Lorenzo Peli diversificazione dei capitali e oro fisico nella successione ereditaria lorenzo.peli chiocciolagolcare.it 339 29 05 810. Stefano Molinelli, piani d'oro da investimento, monete d'oro e ricevute elettroniche in oro, stefano.molinelli chiocciolagolcare.it 349 37 59 705. Alla prossima! vi ricordo il blog www.golcare.it